Spazio ai giovani musicisti per la quarta edizione del concorso nazionale per giovani talenti provenienti dai licei musicali e conservatori. Diverse le sezioni della manifestazione, musica da camera, canto lirico, solisti, oltre a quella dedicata ai singoli strumenti. La partecipazione inoltre sarà aperta anche a musicisti che sono stati avviati alla musica da maestri in forma privatistica. Proprio per questo il concorso è stato ampliato ed aperto a tutti e la sfida si articolerà, oltre che per le borse di studio in palio, anche per la partecipazione alla serata finale che si svolgerà il 10 aprile prossimo al Palazzetto dei Nobili. Inizialmente è stata un'idea di tutti noi soci dell'associazione per riportare un po' la città dell'Aquila e i giovani dell'Aquila all'interno di un panorama culturale che forse dopo il sisma del 2009 si è spento. La differenza tra i concorsi precedenti è questa differenzializzazione tra il liceo musicale e il conservatorio.